L'edilizia scolastica resta una priorità di questa amministrazione, c'è grande attenzione rispetto a un rinnovamento di quello che è il patrimonio scolastico della città. Abbiamo ottenuto in questi mesi finanziamenti importanti che ci consentono davvero di dare una svolta agli edifici. Mi riferisco in particolare agli ultimi finanziamenti importanti ottenuti che ci consentono di realizzare di fatto due nuove scuole, quindi demolizione e ricostruzione con edifici in ZEB. ZEB sta per Near Zero Buildings, quindi da un punto di vista di efficientamento energetico, oltre che sismico, strutture assolutamente all'avanguardia e legno con ottime prestazioni, in particolare il nuovo polo di infanzia di Via Rigoni, che quindi sarà una struttura al pari della pluripremiata Brancati, anzi per certi aspetti per segno superiore. Quindi sono 3 milioni e 6 ottenuti dal PNRR per andare a realizzare un nuovo polo di infanzia. Avremo poi l'intervento sull'Anna Frank, quindi anche in questo caso una demolizione e ricostruzione di una scuola, veramente anche in questo caso una scuola al top da un punto di vista delle prestazioni. Abbiamo poi altri interventi, alcuni sono già partiti, altri che partiranno lo stesso, sempre legati al PNRR. Penso ai due interventi partiti sulla palestra della scuola di Via Fermi, così come sulla palestra della scuola di Borgo e Santa Maria. Abbiamo poi un altro intervento importantissimo, che è appunto il completamento, se vogliamo, della Brancati, con la realizzazione in questo caso di una palestra da nuovo, che servirà appunto ai ragazzi della Brancati. Una palestra anche in questo caso, diciamo, coerente rispetto agli obiettivi e alle prestazioni della pluripremiata Brancati. Poi abbiamo un altro intervento, che in questo caso invece non prevede una demolizione e ricostruzione, ma prevede un intervento importante di 5 milioni e mezzo sulla Manzoni. Anche queste risorse ottenute tramite il PNRR in un finanziamento che ha vinto il Comune di Pesaro su un bando regionale, che appunto ci consentiranno, anche in questo caso, di andare a efficientare la struttura, metterla in sicurezza e prevedere anche un ampliamento, individuando degli spazi che poi verranno assegnati al quartiere, all'attività della città del quartiere.